leggiamo oggi la pagina conclusiva del romanzo la coscienza di zeno che è un finale famosissimo in quanto apocalittico inquietante e forse profetico diciamo speriamo di no visto il la conclusione qualche modo drammatica in realtà l'argomento è la salute e inizia in maniera perentoria la vita somiglia un poco alla malattia come procede per crisi ed isi e dai giornalieri miglioramenti e peggioramenti a differenza delle altre malattie la vita è sempre mortale non sopporta cure sarebbe come voler torare i buchi che abbiamo nel corpo crea credendoli delle ferite moriremmo strangolati non appena curati ecco questo incipit è piuttosto eloquente su come zeno e in qualche modo svevo veda la vita perché di fatto la vita è malattia per lui in che senso nel senso che la salute vera non è possibile per tutto il romanzo abbiamo visto che zeno si affannava per somigliare a qualcuno a un modello borghese a chi era riuscito in qualche modo a costituirsi come personaggio ben inserito nella società ma allo stesso tempo ci siamo resi conto che anche questi in realtà sono malati sono falliti anche essi hanno dei delle difficoltà e difatti zeno a differenza dei personaggi precedenti del dello stesso autore si rende conto che anche il anche il mondo borghese non è un modello o meglio non è in tutto e per tutto un modello ma anche le sue criticità le sue debolezze e per esempio guido che apparentemente era l'uomo vincente poi in realtà crolla nella sua nei suoi tentativi è costretto al suicidio peraltro anche il suicidio non gli riesce bene perché lui vorrebbe fingerlo ma poi in realtà si muore veramente quindi insomma anche gli apparenti vincenti in realtà sono malati perché di fatto è la vita stessa ad essere una malattia e questo cosa vuol dire vuol dire che non possiamo guarire perché la malattia è la nostra condizione la nostra condizione la nostra condizione di esseri di esseri umani in realtà ho detto di esseri umani non a caso perché nelle righe successive zeno pone un distinguo tra gli esseri umani e gli e gli animali dice di fatti che gli animali sono stati per gli animali è possibile la salute perché perché loro dipendono dalla loro forza fisica e in questo modo hanno sviluppato ciò che veramente serve loro e anche tramite la selezione diciamo chi sopravvive può essere sano invece gli uomini no gli uomini hanno inquinato le radici stesse loro esistenza in realtà e qui è interessante come anticipazione di problemi molto questo che sentiamo molto oggi zeno dice che l'uomo ha inquinato l'aria ha impedito il libero spazio quindi diciamo si sta condannando alla aumentando sempre più come popolazione distruggendo il mondo attorno a sé il mondo attorno a sé sta condannando a un triste futuro ma in realtà il presente è anche triste perché a differenza degli animali appunto che hanno diciamo possono confidare sul loro corpo e quindi devono confidare sulla loro salute l'occhialuto uomo e l'occhialuto è già interessante perché questo il fatto di essere occhialuti vuol dire che avere bisogno di una macchina per per sopravvivere comunque ma l'occhialuto uomo invece inventa ordigni fuori dal suo corpo e se c'è stata salute e nobilità in chi l'inventò qua e sempre manca in chi la usa e poi saltiamo qualche riga e l'ordigno che crea la malattia con l'abbandono della legge che fu su tutta la terra creatrice la legge del più forte sparì e perdemmo la selezione naturale altro che psicoanalisi vorrebbe sotto legge del possessore del maggior numero di ordigni prosperando malattie e ammalati quindi in realtà la legge del più forte la legge che in realtà vorrebbe essere la legge della selezione naturale crea in natura salute nel senso che i meno adatti muoiono e chi prospera è però sempre migliore invece gli uomini visto che tutti bene o male sopravvivono grazie agli ordigni ordigni qui indica tutte le macchine tutti gli ausili che ci permettono di sopravvivere anche se non ne avremmo le qualità ecco proprio perché manca la selezione questo in realtà è il nostro grande progresso però mancando la selezione prosperano anche le malattie perché ce le tramandiamo di generazione in generazione e siamo sempre più deboli noi perché proprio per confidiamo negli altri noi fisicamente siamo più deboli e malati c'è solo una possibilità della di tornare alla salute forse traverso una catastrofe inaudita prodotta agli ordigni ritorneremo alla salute quando i gas velenosi non basteranno più un uomo fatto come tutti gli altri nel segreto di una stanza di questo mondo inventerà un esplosivo incomparabile in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli e un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri ma degli altri un po più ammalato ruberà tale esplosivo e si arrampicherà il centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo ci sarà un'esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma innebulosa e errà nei cieli priva di parassiti e di malattie solo l'apocalisse totale può far tornare la terra la salute liberandola degli uomini i gas velenosi erano l'arma più tremenda della prima guerra mondiale più temuta ma zeno dice presto saranno superati arriveranno armi molto più tremende e ovviamente noi oggi non possiamo non pensare alla bomba atomica questo ordigno che è già stato inventato questo ordigno che già può distruggere la vita sulla terra e quindi riportarla diremmo con zeno alla salute manca il folle per il momento che provochi il cataclisma ma questo finale così drammatico e disilluso è il coronamento di questa di questo romanzo in cui anche l'inetto in qualche modo ha la sua rivincita perché si rende conto che la malattia non appartiene solo a lui ma è di tutti e anche i anzi coloro che sono riusciti essendo cristallizzati la loro condizione non sono più in grado di mettersi in dubbio e per questo sono anch'essi perdenti